no alla discarica a riceci il caso arriva anche in parlamento l'ultimo saluto di fano a tommaso della dora turismo patto fra inside market e limberg hotels disturbi della vista arriva screening gratuito per i bambini ragazzi al cinema col progetto move the movie ben ritrovati su rossini tv e benvenuti al nostro telegiornale in questa prima edizione delle 19 40 in replica poi alle 20 e 40 oggi è mercoledì 10 maggio e apriamo questa edizione parlando della più grande discarica delle marche che potrebbe essere realizzata a riceci nel comune di gallo di petriano un progetto fortemente osteggiato dalla comunità locale che ora è arrivato all'attenzione del parlamento è diventato un caso che sta catalizzando l'attenzione nazionale quello relativo al progetto di realizzazione della più grande discarica delle marche nel terreno collinare di riceci nel comune di petriano a due passi da urbino un'attenzione di dimensione parlamentare visto che alla camera il deputato francesco emilio borrelli di alleanza verdi e sinistra ha presentato una interrogazione ai ministri di economia pubblica amministrazione interno per verificare la trasparenza dell'iter procedurale che sta acconsentendo la realizzazione di questo progetto una interrogazione firmata anche dal portavoce nazionale di europa verde angelo bonelli il progetto prevede a riceci la realizzazione di un impianto di smaltimento di rifiuti largo 40 ettari capace di contenere 5 milioni di tonnellate di scarti di fabbriche che non si possono né bruciare né trasformare ma soltanto interrare il tutto a mezzo chilometro da alcune abitazioni in un'area agricola nonché di culto per il cicloturismo e nelle stesse colline che furono set cinematografico di parte del fortunato spot di promozione turistica delle marche girato con Dustin Hoffman testimonial nel 2009 la rivolta dei residenti della zona cavalcata da un comitato per il no alla discarica ha già superato le 2000 firme alle quali si aggiungono altre 400 raccolte in pochi giorni da una petizione online l'interrogazione parlamentare vuole indagare sulla trasparenza che ha portato ad aprile la provincia ad avviare il progetto autorizzativo nei confronti di aurora srl società deputata alla realizzazione di un impianto di smaltimento rifiuti società le cui quote sono composte al 60 per cento dalla società san marinese ecoservizi e al 40 per cento da marche multiservizi fra chi si è opposto alla realizzazione anche lo stesso consiglio comunale di petriano nonostante il sindaco fabrizioli sia socio di marche multiservizi domani l'interrogazione parlamentare sarà rafforzata da un sopralluogo dello stesso deputato borrelli che farà tappa a riceci assieme al portavoce provinciale di europa verde giulio lonzi e all'ex consigliere regionale gialluca carrabs che ha portato il caso riceci all'attenzione di montecitorio e dal no alla discarica passiamo al no al biolaboratorio che dovrà nascere in zona torraccia a pesaro un altro caso emerso alla ribalta nazionale sul quale sono intervenute oggi attraverso una nota ufficiale le associazioni animaliste e ambientaliste del territorio oipa empa eze lav e lupus in fabula associazioni che ribadiscono contrarietà a ogni attività che preveda il coinvolgimento e la sofferenza di animali a fini di sperimentazione o che possa causare danni all'ambiente allo stesso tempo esprimono il proprio supporto al progresso della ricerca scientifica ma chiedono che l'istituto zoo profilattico garantisca che il progetto non preveda la costruzione di stalle di custodia per detenere animali destinati a sperimentazione ma che piuttosto vengano autorizzati locali destinati esclusivamente alla sicurezza sanitaria ed ora cambiamo argomento ci spostiamo a fano dolore e commozione questa mattina appunto nella città della fortuna dove nella chiesa di santa maria goretti è stato dato l'ultimo saluto a tommaso della dora segretario del partito democratico di fano venuto a mancare lo scorso venerdì pomeriggio ad appena 43 anni un malore fatale ancora senza una spiegazione per il quale sono stati disposti approfonditi accertamenti medici attorno alla funzione ufficiata da don giuseppe marini l'intera comunità fanese si è stretta questa mattina nel conforto alla famiglia della dora e nel ricordo di un ragazzo apprezzato per il suo attivismo politico e per la sua attività di educatore sociale oltre alla giunta comunale fanese presenti in chiesa tanti esponenti del pd locale da daniele vimini a luca ceriscioli fino alle segreterie provinciali e regionali rosetta fulvi e chantal bonprezzi ed ora cambiamo di nuovo argomento e ci occupiamo di turismo l'attrattività di pesaro come destinazione turistica cerca un cambio di passo in vista del 2024 anno della capitale della cultura va in tal senso quindi l'inizio della collaborazione sancita oggi all'hotel excelsior fra i tour operator inside inside market live e la catena degli linbergs hotel di nardo filippetti l'unione dei 30 tour operator di inside market live incontra l'accoglienza di alta qualità della catena linberg hotels e resorts di nardo filippetti all'hotel excelsior è stata presentata oggi le punto di partenza di una partnership volta a favorire l'incoming nazionale e internazionale del territorio soprattutto in un momento cruciale ovvero alle porte di pesaro capitale della cultura 2024 e abbiamo pensato che in occasione di un appuntamento importante come pesaro capitale italiana della cultura 2024 potesse essere una buona idea quella di mettere insieme ovviamente strutture ricettive di qualità e anche il lavoro dei tour operator che fanno in coming cioè quelli che tutti i giorni si occupano di promuovere commercializzare la destinazione marche e ovviamente in questo caso pesaro e il territorio del pisarese noi naturalmente ci metteremo tutto il nostro impegno soprattutto per lavorare nel campo digitale ovvero costruire pacchetti e prodotti che possono essere distribuiti sia in italia che nel mondo in maniera veloce facile soprattutto meno costosa rispetto anche alle modalità di lavoro che si utilizzavano in passato sicuramente continueremo andare alle fiere workshop però comunque oggi la presenza sui mercati digitali consente di poter vendere meglio e di più la destinazione quindi far conoscere far apprezzare le esperienze che ci sono il nostro territorio a un turismo insomma anche internazionale che quello fondamentalmente che ci manca all'hotel Excelsior il padrone di casa Nardo Filippetti ha animatamente spronato la neonata sinergia verso un unico macro obiettivo sollecitare ogni strategia funzionale ad accrescere la riconoscibilità all'estero di pesaro come destinazione turistica è inutile che parliamo di costituito rapporti società consorsi collaborazione tutte parole al vento investiamo quelle poche risorse che ci sono nel comunicare che noi esistiamo ma esiste la destinazione ognuno di noi quando va in vacanza va in un posto perché c'è qualche cosa che gli risponde o che cerca poi quando in quella destinazione può trovare un albergo a una stella un camping un Airbnb un albergo 8 stelle però tutto quanto è sodio è promozione che oggi la promozione non si può più fare come 50 anni fa ancora con la Vallegetta in giro per il mondo avendo dei costi importanti da sostenere per poi divulgare il sapere così a piccole così parcializzato oggi un bravo web marketing nell'associazione loro che hanno costituito ritenga che riesca a sviluppare molto più domanda e richiesta piuttosto che non ognuno di questi tour operetto che vada in giro per il mondo dire che esiste la città di peso o le marche io parlo di peso che i nostri vestimenti sono stati fatti su questa città ma se andiamo su internet a cercare come destinazione turistica per le vacanze pesaro non appare mai allora se peso non è nota è difficile fare impresa turistica in una città sconosciuta per il turismo e anche se andiamo a digitare destinazione turistica balneare ancora peso non appaia allora vuol dire che qualcuno che gestisce la politica di questa città e deve dare la visione bisogna che qualche domanda si faccia perché piuttosto che fare solo investimenti nel territorio per rapporti che chiaramente clientelari per stare d'accordo con quello questa altro basta di queste sagre o di queste fiere piuttosto che non fare degli investimenti giusti per la destinazione un'unione che cerca dunque una sponda nella politica non solo in quella di pesaro rappresentata nell'occasione dall'assessora francesca franquellucci ma anche in quella regionale non siamo rimasti molto contenti per il fatto di avere aperto un volo per cui ovviamente ci fa piacere con parigi che è stato presentato proprio ieri all'ambasciata di francia e non aver coinvolto invece gli operatori che fanno in coming perché comunque sarebbe bastato semplicemente anche in quel caso un incontro anche con gli operatori francesi per poter dare a noi la possibilità poi di vendere la destinazione. Mi auguro che sia stata solo una disattenzione e che sicuramente in futuro possa esserci una maggiore attenzione rispetto a questo. Ci si prepara a Pesaro capitale della cultura non solo a livello di accoglienza turistica ma anche di innovazione va in tal senso il progetto casa delle tecnologie emergenti per il quale Pesaro ha vinto un bando da 11 milioni di euro. Oggi la giunta comunale ha deliberato un intervento da mezzo milione di euro per creare la sede del futuro incubatore di tecnologie nello stabile di Largo Mammiani 13 al momento sfitto. Una volta concluso il progetto questi locali ospiteranno gli uffici del servizio innovazione tecnologica e transizione digitale del comune. Ed ora ci occupiamo di un'importante iniziativa dedicata alla salute dei bambini realizzata da Lions Club Pesaro Host e Leo Club che promuovono uno screening gratuito della vista rivolto ai bambini. È il terzo anno con la pausa del covid di una azione importante di prevenzione all'interno delle nostre scuole. I bambini di 4 anni delle scuole comunali, statali e anche paritari della città vengono in queste settimane visitati all'interno delle proprie scuole da degli esperti appunto nella prevenzione dell'ambliopia. Il contributo del Lions Club e del Leo Club di Pesaro è fondamentale in questo tipo di iniziativa che testimonia quanto la cura e il benessere dei bambini della città sia a cuore e un'azione condivisa da più soggetti. Ecco, perché lo screening su questa particolare tipologia? È una tipologia di malattia che va affrontata in una tempistica molto precoce. Lo screening nella fascia di età della prima infanzia consente al bambino o la bambina di avere una vita sana se questa malattia viene diagnosticata precocemente. Le visite consistono in questo. Quando entriamo nelle scuole materne, un bambino alla volta viene accompagnato dalla maestra e noi che abbiamo predisposto i nostri strumenti per la visita che sarebbe l'otto tipo con il quale facciamo la misurazione della vista su uno e sull'altro occhio e l'autorefratometro che è uno strumento elettronico il quale determina in maniera autonoma quelli che potrebbero essere i problemi degli occhi. Lo scopo di queste visite è appunto quello di determinare precocemente, i bambini hanno 4 anni, eventuali difetti che potrebbero portare al cosiddetto occhio pigro, cioè all'esclusione proprio perché è difettato di uno dei due occhi creando dei danni permanenti. Se viene diagnosticato in tempi utili, verso i 4-5 anni, con semplici cure si riesce a recuperare questo difetto e quindi in pratica a superare indenni tutta la problematica. Qual è la percentuale di bambini che soffre di questa malattia e che magari i genitori non lo sanno? Diciamo che sui bambini per ora visitati, su 120, 20 bambini li abbiamo trovati con dei problemi critici, per cui non è proprio bassissimo la percentuale di questo tipo di problema. Un'iniziativa a cui la Regione Marche, in particolare anche il sottoscritto come Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali, sarà sempre vicino. Benissimo, è un altro segnale importantissimo di ripresa, tutte queste attività di screening per i nostri ragazzi, per i nostri giovani sono importantissime e quindi la Regione Marche non può che sostenere queste nuove iniziative. Chi in questo mese di maggio metterà piede al Cinema Solaris di Pesaro lo troverà completamente decorato dai disegni dei bambini pesaresi che hanno preso parte al progetto Move the Movie. Vediamo di cosa si tratta. Un progetto europeo che diventa proposta didattica. Move the Movie, letteralmente muovi il cinema, è un'iniziativa proposta dal Cinema Solaris, vincitore del bando Europa Cinemas, ideato per far avvicinare i bambini alle sale cinematografiche. Un progetto riconosciuto anche dalla settantottesima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Per noi è stato non un successo, oltre perché è stato bellissimo, lavorare con i bimbi degli elementari è una cosa stupenda perché sono iper ricettivi e molto attivi e ci hanno ascoltato tantissimo perché insieme a Adriano Razzi che è il regista che poi ci seguirà per tutto questo percorso abbiamo fatto delle piccole lezioni su cos'è il cinema. Il giovane pubblico ha avuto la possibilità di vedere tre film europei, Lizzie Red, Ernest Celestine e l'avventura delle sette note, Anna Frank e il diario segreto. Tutti i temi importanti proiettati sul grande schermo. I bambini hanno poi realizzato dei disegni inerenti a tutto ciò che hanno visto e vissuto e dal 9 al 24 maggio sarà possibile vedere la mostra all'interno del cinema Solaris. Hanno recepito perché molti disegni raccontano di quello che c'è dietro al cinema e ce l'hanno regalati perché noi abbiamo chiesto di regalarci disegni sulle loro impressioni e abbiamo 362 disegni. 15 di questi insieme a una giuria che è formata appunto da Adriano Razzi, da me, da Francesco Moretti che oltre ad essere mio figlio è un grafico fumettista, da una classe di grafica della scuola d'arte che è la quarta F della Galeazzi e da Bimini che è comunque l'assessore alla cultura e la Vitri che ci ha sostenuto come la regione. 15 di questi nella serata finale del 24 alle 9 con tutti i loro presenti verranno animati, piccole animazioni ma per farli sentire tutti i partecipi anche tutti gli altri verranno messi sullo schermo quindi magari sei in una pagina così li vedono proiettati sul grande schermo più le animazioni. E quanto dura la mostra? Dal 9 al 24 quindi avete tempo di venirla a vedere, saremmo aperti tutti i giorni con gli orari del cinema quindi anche sabato e la domenica che sono dalle 4 la domenica e dalle 6 il sabato oppure su richiesta. Abbiamo fatto anche piccole lezioni su quello che c'è dietro ogni film e quanta gente ci lavora per portarli a capire che il mondo del cinema è immenso ed è pronto per ospitare anche tanti di loro se vogliono lavorarci. Rimaniamo in tema di bambini e parliamo di quelli nati a Pesaro nel 2022. Domenica 14 maggio torna infatti l'appuntamento con Felici di essere nati. Diciottesima edizione dell'evento organizzato dal Centro Aiuto alla Vita che dalle 16 alle 19 vedrà nel cortile di Palazzo Mazzolari Mosca un pomeriggio di festa e di ritrovo per tutte le famiglie che hanno avuto la gioia della nascita del proprio figlio nell'anno appena trascorso. Venerdì 12 maggio alle ore 18 il cortile di Palazzo Almerici si animerà delle note delle poesie di Son e Anima un progetto artistico che riscopre le suggestioni del dialetto in un percorso che attraversa tutta l'Italia. Saranno i musicisti Marco Santini, Rosa Sorice, Emanuele Gatta e Maurizio Scocco a confezionare un evento che sarà l'anteprima di note oliveriane. La rassegna organizzata da Biblioteca e Museo Oliveriani giunta la sesta edizione che si terrà il prossimo luglio. Restando in tema di dialetto torna in scena l'attrice regina del vernacolo pesarese Franca Mercantini che con la sua compagnia Il Faro sarà questo weekend sul palcoscenico del teatro sperimentale con la commedia Chi capisce e Matt. L'appuntamento è per sabato 13 maggio alle ore 21 e domenica 14 maggio alle ore 17. A maggio Urbino si trasforma in una sorta di Montmartre parigina con il festival Urbino in acquarello. Per l'ottavo anno arriveranno in città artisti da tutto il mondo in una rassegna che dal 12 maggio al 14 colorerà di acquarelli l'orto dell'abbondanza, Collegio Raffaello, il Palazzo Ducale, l'Oratorio San Giovanni e l'Oratorio San Giuseppe. Opere d'arte che saranno documentate dalle nostre telecamere in uno speciale che vi mostreremo la prossima settimana. E chiudiamo questa edizione parlando di sport. La decennale tradizione del basket pesarese infatti propone per sabato 13 maggio un evento molto particolare che si terrà al Cinema Astra. Vediamo di cosa si tratta. L'idea nasce da tanti piccoli fatti messi insieme. Noi abbiamo una grande squadra che ci sta a tante soddisfazioni. La storia di questa squadra è la VL che chiediamo ai ragazzi giovani che vanno a vedere con entusiasmo le partite che cos'è VL? Vittoria Libertas. Che cos'è Libertas? Boh, si sono tutti dimenticati. E questa dimenticanza mi ha fatto risalire nel tempo, negli anni 60, quando la Vittoria retrocessa, la Libertas è salita, si sono sviluppate le società parocchiali, si è creato un movimento sociale notevole che tuttora parocchiali caratterizza Pesaro. L'idea è fare un riconoscimento ufficiale al valore sociale che queste squadre di parocchiali, che io chiamo parocchiali, hanno portato nella società pesarese. La pallacanestra Pesaro non è nata nel 1946 con la VL, ma è nata molto tempo prima con una squadra di donne, quindi parliamo del 1939. Le parrocchie indiscutibilmente hanno creato quel ruolo familiare che i giovani avevano necessità, avevano bisogno, quindi nati in un posto tranquillo, hanno fatto sport e questa passione a Pesaro per il basket è stato qualcosa di straordinario che tuttora la vediamo a seguire la prima squadra. Chi aveva le scarpe intere era già fortunato, il delettantismo totale assoluto, la possibilità soprattutto di tutti, di giocare a tutti, dal più alto al più basso. Io quando uscivo da scuola avevo dieci anni, uscivo da scuola l'una, all'una e mezza ero già nel campo a prendere il posto, perché se volevi giocare a pallacanestro dovevi prendere il posto e aspettare che i grandi ti chiamavano, ma non ero solo io, eravamo tutti così, quindi si viveva intorno al campo da basca, al campo da calcio, al campo d'atletica, eccetera. Siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale, ma restate su questo canale, sul canale 80 di Rossini TV, perché subito dopo questa prima edizione del nostro telegiornale alle 20.10 andrà in onda questo interessante convegno, un talk meeting che si è tenuto appunto in cui si è parlato di Marche sui binari giusti a Urbino, al Palazzo Ducale, in cui si è parlato soprattutto di sostenibilità, competitività e sviluppo in relazione appunto alla ferrovia. E subito dopo alle 21.20, come tutti i mercoledì, il nostro programma Amministrando, dove Antonio Astuti intervista gli amministratori locali, allora questa sera vediamo innanzitutto come sta Palmiro Chieli, che non è stato tanto bene gli scorsi giorni, e sapremo anche quali sono le novità del comune di Vallefoglia. E vi ricordiamo anche che domani arriva l'ultima puntata di Insieme a Canestro, questa grande diretta, questo grande programma televisivo che vi ha permesso di vedere tutti i giovedì in diretta informazioni e protagonisti della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Chiudiamo con il coach della Carpegna Prosciutto, Yasmin Repeja, che sarà con Roberto Terenzi, che è stato un giocatore della VL. Quindi non perdetevi, domani la diretta alle 21.20. Domani invece vi aspetto nel consueto appuntamento con la rassegna stampa, 7.20 in diretta su Rossini TV, in streaming, nell'applicazione e anche sulla nostra pagina Facebook. E allora vediamo se i prossimi giorni saranno ancora piovosi come quello di oggi. Per voi il meteo, io intanto vi auguro buona serata.